Sei sovrappeso, ti senti male per il tuo corpo e non ti piace quello che vedi quando ti guardi allo specchio? Ketone Active è un integratore in capsule che metterà fine a questa sensazione. Queste capsule mettono il tuo corpo in uno stato di ketosi, stimolando la combustione dei grassi 24 ore al giorno, senza la necessità di esercizio fisico pesante o diete restrittive che ti lasciano morire di fame. È molto difficile essere in sovrappeso. Ti vergogni del tuo corpo ed è quasi impossibile trovare vestiti che ti facciano sentire bella. Non puoi mai scegliere i vestiti che ti piacciono di più, ma sì, quelli che meglio mascherano il tuo grasso. La loro autostima scompare e anche il loro rapporto è danneggiato a causa di esso. La vergogna del suo corpo la fa sentire a disagio per avere momenti intimi con il suo partner. E so che hai provato di tutto per perdere peso e niente ha funzionato. Ma non è colpa tua. In questo caso, hai bisogno di aiuto esterno e Ketone Active è la scelta migliore che puoi fare. La sua formula accuratamente progettata, renderà il vostro corpo eliminare in modo sano ed efficace tutto il grasso che tanto ti infastidisce. In poche settimane diventerai più magro, la tua autostima migliorerà, sarai in grado di indossare vestiti che non ti si addicono più e non ti vergognerai mai più del tuo corpo. Sciogliendo il grasso dalla pancia, schiena, cosce, braccia e viso, ti sentirai giovane, sicuro e leggero, libero di fare quello che vuoi. Immagina di indossare un bellissimo bikini e goderti una domenica di sole in spiaggia con la tua famiglia. Immaginate di essere in grado di andare al negozio e scegliere l'abito che ti piace, fiducioso che tutte le opzioni sarà bello su di voi. Immagina tuo marito che ti guarda con più desiderio e ti dice sempre quanto sei magro e bello. Immagina di essere la madre con il corpo più bello nella scuola di tuo figlio. Altre madri vi chiederanno qual è il segreto di un corpo così snello, e sarete felici di dire loro che Ketona Active era la soluzione per voi. Poche è un prodotto altamente esclusivo, Ketomaccia Blue Original non è venduto in farmacia o su siti come Allegro Ocenio. Questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale del produttore, a cui è possibile accedere facendo clic sul link che ho incluso nella descrizione di questo video. Cliccando su questo link, sarai reindirizzato al sito ufficiale e potrai effettuare un ordine. Il tuo ordine arriverà entro pochi giorni e pagherai solo quando lo riceverai. Se non sei abituato a comprare online e ti senti un po' insicuro, sappi che è un processo estremamente sicuro. Non devi preoccuparti di niente. Per migliorare ulteriormente la vostra sicurezza, Ketona Active offre una garanzia di rimborso di 60 giorni. Se per qualche motivo non ti piace il prodotto, puoi contattare il personale per un rimborso completo. Non perdere altro tempo, ordina Ketona Active dal sito ufficiale del produttore e ritrova la tua autostima.